Ciao a tutti amici, bentrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti da Max, benvenuti su questo canale o su questa pagina. Se non siete iscritti, che ve lo dico a fare? Potete iscrivervi in vari modi, perché su Facebook potete seguire la pagina, mentre su YouTube potete iscrivervi al canale, ma tanto alla fine è la stessa cosa. Comunque, veniamo a noi perché non si sono ancora calmate le voci dopo il rientro per appena una sola settimana al grande fratello Hip che Ginevra Lamborghini ha trovato subito il modo di far parlare di sé, ma questo forse alla fine lo sapevamo. Nelle ore scorse ha avuto un incontro chiarificatore con Oriana Marzoli sul caso Antonino Spinalbese, e sono state parole che da una parte e dall'altra non sono piaciute ai telespettatori che hanno sparato a zero. Ad esempio, subito un utente fa, ma ragazzi, ma che gioco è? Lei sembra di capire che sia entrata per Antonino, e poi, e poi che fa? Non dico che si devano scannare, però neanche così, boh, certo, vai a capirci qualcosa. Ginevra non mi piace dall'inizio, è troppo impostata. Senza la sorella e Antonino di lei si parlerebbe ben poco. Ginevra, anche meno. Signorini ti ha messa lì per non fare la pacera, ma per stare lì a mettere zizzania fra queste due, verso Antonino e tu, e tu non hai capito il senso. Mi hai proprio delusa. Anche Antonella, che non l'avete capita, nessuno, e anche tu, che la stai attaccando con queste cose, non avete capito che il pubblico è dalla parte di chi è più debole. Ma non è solo questa superidea concentrata di un utente che ne ha dette veramente di tutti i colori. È una cosa generale, perché ad esempio un altro fa, quando farete uscire Ginevra sarà sempre troppo tardi. È entrata non per Antonio, ma per sé stessa. L'ha usato soltanto perché era l'unico modo per poter rientrare. Io domani la farei ritornare dal suo fidanzato, assolutamente sì. E qui c'è stato un fiume di commenti che non si esaurisce più, perché non solo questi utenti la pensano così. È una massa, signori, è una massa. E quindi, poche ore fa, mentre si trovava nella zona trucco, Ginevra ha spiegato a Sara un retroscena. In pratica, il motivo per il quale non possiede una Lamborghini, parole in cui molti hanno letto un'accusa, direttamente all'azienda dei famiglia. Ed è stato detto, quando io ho detto quella cosa, e io non mi posso permettere Lamborghini, è perché obiettivamente per permetterti quella macchina, e per guidare quella macchina, la benzina costa. Con un pieno, sai quanto ci fai? Un quarto d'ora. E anche Altobello si è trovata a dare ragione all'ereditiera, lasciando intendere che stesse ben capendo il suo discorso sui costi. Certo è che sentire una Lamborghini parlare così delle Lamborghini prodotte proprio dall'azienda di famiglia non è che sia proprio il top del top. Ma proprio nei giorni scorsi Ginevra aveva raccontato di come i suoi rapporti con Elettra siano un pochino migliorati. E meno male. Chissà cosa succederà ora, ma questo poi piano piano lo scopriremo. Comunque, detto questo, Max vi ringrazia nuovamente per l'attenzione di questo video. Lasciate il vostro segno qui sotto, rimanete informati, noi ci vedremo per un prossimo video, sempre qui su Pausa Caffè Live. Mi raccomando, vi aspetto come sempre. Statemi bene. Grazie a tutti.